Il direttivo di Api ha deciso all'unanimità quattro cose fondamentali. La prima, che occorre creare non più il terzo polo, perché ormai è esploso il primo all'alleanza PD e la Lega. Non è più un'alleanza di governo quella tra il PD e le forze populiste della sinistra. Quindi anche il terzo polo deve ripensarsi. Occorre creare una nuova, larga aggregazione che può diventare in questo nostro paese il primo polo se unisce oltre a Api, Udc, Fli e le forze già impegnate, forze nuove della politica, della società, dell'economia, del volontariato. E gente che oggi, giovani soprattutto, vogliano impegnarsi nella battaglia politica. Secondo, non si chiamerà polo della nazione perché oggi non è tempo di farsi definire come nazionalisti perché anzi la crisi in Europa, il voto in Francia, l'esplosione delle forze xenofobe, populiste, estremiste, la crisi in Olanda indica che c'è bisogno di integrazione europea, non nel senso depressivo che abbiamo avuto nell'ultimo periodo in cui il governo tedesco ha guidato una linea europea troppo arroccata e che sembra ridurre le prospettive della crescita economica anziché metterci al lavoro per il lavoro e la crescita economica. Terzo, il governo lo sosteniamo completamente, lealmente, anzi gli chiediamo di accelerare cioè di non ritirare le proprie vele nella direzione di una navigazione spedita, coraggiosa verso l'approdo di riforme che aiutino la crescita economica. Chiediamo al governo di intervenire oggi non più con tasse, siamo oltre ogni limite, ma con tagli della spesa, a partire dalla spesa di regioni che sprecano nel campo della sanità, della formazione dei fondi perduti ad imprese su base clientelare e spesso corruttiva e talvolta purtroppo anche mafiosa. Quarto, è il tempo di una dieta severa e giusta per la politica. Api ha detto da un anno e mezzo siamo stati inascoltati, tagliamo robustamente il finanziamento della politica e ci stiamo battendo da quando esistiamo per norme incisive anticorruzione. e il tempo di approvarla sarebbe impensabile chiudere la legislatura senza cambiare né la legge sul finanziamento della politica né approdare a tagli dei costi giusti non distruttivi delle istituzioni né ad una riforma delle norme anticorruzione che oggi sono del tutto inefficace. Aggiungo per il nostro sito e aggiungo per i nostri amici che ci seguono sulle pagine di Api e dei nostri siti internet che il quadro della presenza dei nostri candidati, delle nostre liste amministrative è molto incoraggiante. Stanno andando bene, stanno lavorando forte, ci aspettiamo in molte parti d'Italia dei risultati assai positivi.